Cos'è Kipi? Kipi è il rilevatore di posizione del tuo animale domestico. Con l'utilizzo e la combinazione dinamica delle tre tecnologie di posizionamento, GPS, LBS e Dead Reckoning, ti permette di sapere sempre dove si trova, a qualsiasi distanza e anche dove non c'è segnale. Funziona in tutta Europa, Turchia, Sudafrica, India, senza costi aggiuntivi. Kipi ha un design italiano, ergonomico e creato su misura per gli animali, resistente a morsi e colpi, è impermeabile e ha una batteria a lunghissima durata ed è facile da agganciare e sganciare a tutti i tipi di collare. Kipi si collega direttamente con il tuo smartphone, computer e tablet. Studiato per piattaforme Apple e Android di ultima generazione, utilizzabile su telefono e cellulare Windows, mostra sempre dove si trova il tuo animale. Puoi anche creare dei confini virtuali, geofence, e ti avvisa se il tuo animale li oltrepassa. E quando non lo trovi, beh, hai due possibilità. Con la modalità Fast Tracking, ogni pochi secondi Kipi ti indica la sua posizione. Con la funzione Proximity Mode, ti porta direttamente da lui, mostrandoti in maniera dinamica la direzione che devi seguire per raggiungerla. Semplice, no? Kipi, the pet finder.